per questo per questo per questo per questo benvenuti in questo nuovo video io sono Viener e oggi siamo su battle hanno visto questa nuova arma no non questa stiamo con Andrea tra un po' veloci mi presentavo quest'arma e ve lo dicevo comunque quest'arma è lenta a sparare però fa 25 di danno da lontano e da vicino fa 50 quindi tutto così lenta a sparare era fortissima e non sei rubato l'anno e dai entro Andrea comunque vado al livello che sono sono maggiore livello 24 al livello 25 dovrei sbloccarmi le monete e 22 e 24 non mi hanno dato niente al 22 ho sbloccato questo e che si sta guardando la live e 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 fratello e 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 quali che sono guardando il mio video oh finalmente mi invita oh due che si sono guardando la live bravi e 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 mo metteranno zero pacificatori al centro città e per la logica questo gioco tu devi fare la missione raccogli pacificatori a terra e loro non ti mettono i pacificatori e 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 ma 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 che sta succedendo? bello che si colpi e 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 Sì, con Giuseppe l'ho fatto e ce l'ho riuscita. Nessuno perché Giuseppe mi ha confuso con l'altro e mi ha chillato. Perché è pirla. E aspetta, fammela giocare ormai questa partita. E fai qualcos'altro, fai vedere qualcos'altro, bellissimo canale, no? Dai, zio, mo... Mi sono... No, no. Va bene. Uno. Tre. Due. Uno. Via! Il si è il tempo, Lari. E' un'esplorso. Sì, tappen o' Lari. Sì, tappen o' Lari. E' lo' di. Sì, tappen o' Lari. Eh, no no Come mi lagga, c'è un lagga assurdo Io l'ho visto Perchè? Non so Dove è? Eh, dove è fuori, non è fuori da Nei, a frà, è un aspetto Non so Non, 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 non. Non, 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 non. Bekiamo Non, 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 non. Ecco. Allo, eh, che hauto Chaffè? Allo, eh? Sì, hauto E' v gottina Allo, eh, ah. con la barra di chiudere adesso, eh? Cosa? Io l'ho fatto ora all'inizio del gioco. Andiamo in safe, zio, che poi dicci la roba. Cosa? Tutta, o' cheyedur a magiciano? Giudere di. Oggi siudere di vera. Cosa? Sabine! Registro? Unnotta apparelli. Chiudere! Cosa? Takk. Eru? Eru? Otton! Eru? 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 Sommigam frangastitjus spuli. Miðar lestu. Ma vantur? Eru? Eru? Così ho fatto? Siamo stati. Il mango carne ce la posso fare. 5, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo si è risultato sotto i me. Buono, no. Duello. Ho perso. Ho pochissima vita. No, no, no. Ho pochissima vita. Ma vai a kagare. Segundo. Dovevo stare lontano perché c'è barbata. Ne. Va bene. Rega, io direi che proghi tutto. The Gecko Game is a game of game. Ciao!